Zeratul Ah 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 Perché? Perché voi? Credere. Carregan, sono stato agli albori. Ammira. Zerus, il pianeta natale degli Zerg. Qui gli Zerg si sono evoluti. E qui, l'oscuro li ha mutati. Quelli rimasti sono gli Zerg primordiali. Combattono. Uccidono. Si evolvono. Come dovrai fare tu se sopravvivrai? Zerus, il pianeta natale degli Zerg. Si trova ben oltre il settore Koprulu, dove i Terran non si sono mai spinti. Devi recarti in questo antico luogo, Carregan. A prenderne i segreti. E ottenerne il potere. Da tempo, Chara è sede della colonia principale dello Shaman. Il potere di Zerus ti ha portata qui. Il desiderio di vedere Manx morto mi ha portata qui. Questi Zerg mi aiuteranno a distruggere Coran. Devi permettere a Zerus di ricrearti, Carregan. La guerra finale si avvicina e non resta molto tempo. Non devo fare un bel niente. Non sarò una pedina delle tue profezie. Ma farai qualsiasi cosa per ottenere la tua vendetta. Qualsiasi. Tanto basta. Sto scrutando tramite i miei sorveglianti. Mi affascinano questi Zerg primordiali. Non mostrano segni di invecchiamento. Tutti gli organismi invecchiano. Anche gli Zerg. Ma i primordiali si cibano delle essenze degli altri. Sono in continua evoluzione. Non muoiono. Finché non vengono uccisi da un altro primordiale. Vero. I loro cacciatori più abili devono essere incredibilmente antichi. E incredibilmente pericolosi. Gli Xel Naga ti vogliono nuovamente a capo dello sciame. Lo sai che non credo alle tue profezie. La tua fiducia non è necessaria. Agisco per il bene superiore. Sebbene questo mi attiri l'odio della mia stessa gente. Risparmiami l'autocommiserazione. Tutti devono accettare le proprie scelte. Le ho accettate tanto tempo fa. Quando avremo finito. Tornerò dal mio popolo. E mi sottoporrò al suo giudizio. Un giorno pagheremo tutti per le nostre azioni. Immagino che a te toccherà presto. Gli Zerg primordiali non accettano la nostra presenza. Si stanno radunando. Vogliono distruggerci. Percepisco qualcosa. Un'entità antica. Dormiente. L'antico. Uno Zerg primordiale presente da prima della creazione dell'unica mente. Vuoi che lo risvegli, vero? Se davvero cerchi il potere di Zerus, avrai bisogno dell'antico. Mia regina. I primordiali si stanno radunando nei paraggi. Ci attaccheranno presto. Vogliono impedirti di parlare con l'antico. Che cosa farai? Quello che i miei nemici temono di più. Sempre. Hai trovato la tua strada. Non hai più bisogno della mia guida. Non ci rivedremo mai più, Kerrigan. Dunque questo sarebbe l'antico. Per risvegliare questa creatura, dobbiamo nutrirla. C'è parecchia biomassa qui. Chiuderemo quei quingor e manderemo i droni a estrarre carne dalle loro carcasse. Quando il drone avrà ultimato la raccolta, trascinerà la biomassa verso l'antico. Ora parla, Brack! Siete nel mio territorio! Zerg corrotti! Ti moriremo le vostre carni! Attenzione! Una forza di Zerg primordiali volanti si prepara ad assaltare la colonia. Branchi di Zerg primordiali si stanno radunando. È probabile che attacchino di nuovo. Che ci provino. Questa mandria di Quilgor è il nostro obiettivo primario. Muoviamoci. È in fretta. Avanziamo! Dobbiamo posizionarlo sul mio strato. Dobbiamo posizionarlo sul mio strato. Questo pianeta è... Avverto qualcosa di primordiale nei paraggi. Ma è piccolo. Pozza di Essenze primordiali. Forti sequenze. Raggiungi Cassorbi Essenza. Aumenterà forza. Tulla potrà ostacolarmi. Facciamola finita. Mi sento più forte. Deve essere questo il potere di cui parlava Zeratulla. Ti ha chiesto niente. Proseguiamo. Lo sciame non riposa mai. Lo sciame è affonato. Facciamola finita. Fort, fatti subito. Te ne pentirai. Avanziamo. Un drone può raccogliere biomassa da questo Quilgor. Il processo è lento e il drone sarà vulnerabile. Dobbiamo proteggerlo durante la raccolta. Dobbiamo recuperare in fretta questa biomassa. Dobbiamo posizionarlo sul biostat. un bus andrà. Un buon autosol. Un decolo, un obbligatorio, un uomo che ha un blocco. Un buon autosol. Un buon autosol. Un buon autosol. riuscita. La biomassa è in viaggio verso l'Antico. Sì, nulla potrà ostacolarmi. La biomassa è stata consumata. L'Antico ne richiederà altra per risvegliarsi. Allora cerca altri Quilgor, Isha. Sì, mia regina. Quilgor, localizzati. Dobbiamo muoverci rapidamente se vogliamo la loro biomassa. Abbiamo bisogno di altri minerali. Comando il Rondoneo. Parla in fretta. Questo pianeta è mio. Abbiamo bisogno di altri minerali. Abbiamo bisogno di altri minerali. Abbiamo bisogno di altri minerali. Forze primordiali in arrivo. Il drone deve essere protetto. E ti ha chiesto niente. Lo chiamiamo. E ora che c'è? Dobbiamo posizionarlo sul mio strato. La tua arroganza è inaccettabile. Zerus, sarà la tua fine. Abbiamo bisogno di altri minerali. Le nostre forze sono sotto a te. Non deve risvegliare l'Antico. Distruggite la carne. Non lasciatele nulla! Dobbiamo fermarli. Le nostre forze possono intercettare le incursioni. Abbiamo bisogno di altro gas Vespene. Le forze primordiali stanno attaccando la biomassa Quilgore. Sputa il rospo. Proseguiamo. Le nostre forze sono sotto attacco. Sono sotto attacco. Abbiamo bisogno di altro gas Vespene. Genera altri sorveglianti. Le nostre forze sono sotto attacco. Lo sciame è affamato. Genera altri sorveglianti. Abbiamo ingaggiato il nemico. Sputa il rospo. Abbiamo bisogno di altri minerali. Chi ti ha chiesto niente? Giacimento minerario esaurito. Chi ti ha chiesto è stato un problema con il personaggio. Chi mi è fatto. Chi ti ha chiesto. Chi ti ha chiesto. Chi ti ha chiesto di feriare L'Espera. Chi ti ha chiesto di erano dell'espera. Come si chiunca. Chi ti ha chiesto di erano. Biomassa Quilgor sotto attacco. Avantiamo! Sì? Le nostre forze sono sotto attacco. Ho il sogno di altro, Gas Respelli. Parla in... Le nostre forze sono sotto attacco. Hai la mia attenzione? Sì? Avantiamo! Abbiamo bisogno di altro, Gas Respelli. Che ti ha chiesto di andare principale sotto attacco? Abbiamo recuperato metà della Biomassa richiesta per risvegliare l'antico. Abbiamo bisogno di altro, Gas Respelli. Le forze di Brack stanno distruggendo la Biomassa Quilgor. Le nostre forze sono sotto attacco. Vi sono mancata? Abbiamo bisogno di altro, Gas Respelli. Abbiamo bisogno di altro, Gas Respelli. Abbiamo bisogno di altro, Gas Respelli. Le forze sono sotto attacco. Abbiamo ingaggiato il nemico. Hai la mia attenzione. Lo sciame non riposa mai. Proseguiamo. Questo è mio. Questo pianeta è mio. Facciamola finita. Energia è sufficiente. Nulla si oppone all'avanzata dello sciame. Parla in fretta. Facciamola finita. Non state rispota, Roshi. Le forze di Brack stanno distruggendo la Biomassa Quilgor. Chi ti ha chiesto niente? Sì? Nulla potrà. Giacimento minerario esaurito. Il nostro drone è sotto attacco. Dovremmo fornirgli una scorta finché non recupera la biomassa. Dobbiamo posizionarlo sul biostrato. Un drone è sotto attacco da parte delle forze di Brak. Le forze di Brak hanno distrutto la biomassa Quilgor. Il tuo sciame non ha volontà. Gli Zerg primordiali calano su di voi. Predata. Facciamola finita. Proseguiamo. Nulla potrà ostacolare. Sì. Non c'è molto tempo. Lo sciame non riposa mai. Questo pianeta è mio. Avanziamo. Abbiamo bisogno di altro gas del pene. Biomassa Quilgor sotto attacco. Le forze primordiali stanno attaccando la biomassa Quilgor. Attacco. Le nostre forze sono sotto attacco. Distruggete la carne. Distruggetela tutta. Un'altra biomassa Quilgor è stata distrutta. Le nostre forze sono sotto attacco. Minutazione completata. Minutazione completata. Giacimento minerario esaurito. Biomassa Quilgor sotto attacco. Parla in fretta. E ora? E io che pensavo che voi primordiali vi sareste rivelati una sfida. Biomassa Quilgor sotto attacco. Biomassa Quilgor sotto attacco. Minutazione minerario esaurito. Biomassa Quilgor sotto attacco. Le nostre forze sono sotto attacco. Un drone è sotto attacco da parte delle forze di Brock. Le nostre forze sono sotto attacco. Lo sciame è affamato. Questo pianeta è mio. Abbiamo quasi finito. Rilevato organismo primordiale. Funzione simile ad alveare. Genera primordiali. Consiglio annientamento. Della biomassa Quilgor è stata distrutta. Della maniera la sua flore. Sì, peso vicina. Non c'è il cielo. Cosa recupera la sua destra? L'immaginazione. V Biggagia! Dava gallora. Vig pantangare il앞 iconolo. Puttina. MUTAZIONE COMPLETATA Non mi fermerete Abbiamo bisogno di altro gas per il cemento minerario esaurito Questo pianeta è mio Facciamola finita Giacimento minerario esaurito Le nostre forze sono sotto attacco Le nostre forze sono sotto attacco Le nostre forze sono sotto attacco Parla in fretta Abbiamo bisogno di altro gas Vespene Abbiamo bisogno di altro gas Vespene Che ti ha chiesto niente Le nostre forze sono sotto attacco E ora che c'è Hai la mia attenzione Proseguiamo Parla in fretta Le nostre forze sono sotto attacco Che ti ha chiesto niente? Giacimento minerario esaurito Le nostre forze sono sotto attacco Le nostre forze sono sotto attacco Abbiamo bisogno di altro gas Vespene Le forze di Brak stanno distruggendo la biomassa Quilgor Al principale è sotto attacco Abbiamo bisogno di altro gas Vespene Le forze primordiali stanno attaccando la biomassa Quilgor Un drone è sotto attacco da parte delle forze di Brak Non c'è molto tempo Le nostre forze sono sotto attacco Le nostre forze sono sotto attacco Lo sciame è affamato Nulla potrà ostacolarmi Questo pianeta è mio Le nostre forze sono sotto attacco E ora che c'è Facciamo la finta Che ti ha chiesto niente? Giacimento minerario esaurito Questo pianeta è mio Che ti ha chiesto? Abbiamo ingaggiato il nemico Le nostre forze sono sotto attacco Le nostre forze sono sotto attacco Biomassa Quilgor sotto attacco Un drone è sotto attacco da parte delle forze di Brak Le forze primordiali stanno attaccando la biomassa Quilgor E ora che c'è 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 Questa essenza è così Viva Credo che mi piacerà Abbiamo bisogno di altro gas Vespene Sputa il rospo Non c'è Non c'è molto attacco Le nostre forze sono sotto attacco Abbiamo bisogno di altri minerali Giacimento minerario esaurito E ora che c'è E ora che c'è Parla in fritta Questo pianeta è mio L'alveare principale è sotto attacco Facciamola finita Zerg corrotti Vi ucciderò io stesso Difendete la colonia L'alveare principale è sotto attacco I servitori non possono competere con gli Zerg primordiali Le nostre forze sono sotto attacco Abbiamo bisogno di altri minerali Sputa il rospo L'alveare principale è sotto attacco L'alveare principale è sotto attacco Le nostre forze sono sotto attacco Qui il tuo stave è debole L'alveare principale è sotto attacco 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 E B islam, è chiedete la scuola L'alveare principale è 수가 Il tuo sciame rega il marchio di Amon L'uva不ando routine che giunse su Zerus tanto tempo fa. Fece degli Zerghe un'arma e li portò via con sé. Tuttavia, alcuni di noi rimasero nascosti e gli sfuggirono. Ci moltiplicammo, restammo puri. Se cerchi il nostro potere, dovrai divenire primordiale, dovrai divenire pura. Grazie per la visione!